così è scritto in Ezechiele 33 e leggeremo i primi undici versi la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini figlio d'uomo parla ai figli del tuo popolo e di loro quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e lo stabilirà come sentinella ed egli vedendo venire la spada contro il paese suonerà il corno e avvertirà il popolo se qualcuno pur udendo il suono del corno non se ne cura e la spada viene e lo porta via il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato il suo sangue sarà sopra di lui se se ne fosse curato avrebbe salvato la sua vita ma se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno e il popolo non è stato avvertito e la spada viene e porta via qualcuno di loro questi sarà portato via per la propria iniquità ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella ora figlio d'uomo io ho stabilito te come sentinella per la casa di israele quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca avvertili da parte mia quando avrò detto all'empio empio per certo tu morrai e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via quell'empio morirà per la sua iniquità ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano ma se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via ed egli non se ne allontana egli morirà per la sua iniquità ma tu avrai salvato te stesso tu figlio l'uomo di alla casa di israele voi dite così le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su di noi e a causa loro noi languiamo come potremmo vivere di loro come vero che io vivo dice il signore l'eterno io non mi compiaccio della morte dell'empio ma che l'empio si converta dalla sua via e viva convertitevi convertitevi dalle vostre vie malvagie perché morireste o casa di israele è un tema molto forte quello che tratta ezechiele in queste pagine ed è un tema molto forte che riguarda principalmente se stesso in questo particolare caso perché la parola di dio è a lui che si rivolge affinché egli si rivolga con fedeltà pronunciando le parole che l'eterno ha messo nella sua bocca al popolo di israele e sebbene questo è qualcosa che riguarda il profeta chiaramente una verità generale che riguarda poi tutti quanti noi perché perché anche se in forma diversa in un tempo diverso con un'intensità differente noi stessi siamo stati posti come sentinelle dal signore e quindi affrontare questo tema significa per noi valutare quale fosse il peso della chiamata della vocazione di ezechiele in questo particolare caso ma significa anche di riflesso riuscire a comprendere quali siano le nostre responsabilità in questo mondo devo essere onesto uno dei pensieri che più ricorre nella mia mente ogni giorno che vivo è il pensiero dell'eternità e non solo per quel che riguarda me il mio futuro secondo le promesse fatte dal signore ma per quel che riguarda l'eternità di coloro che il signore ha posto dinanzi a me e l'eternità di coloro che dio mi porrà dinanzi e di questo mondo che perisce ed è il pensiero che più ricorre perché perché l'evangelo che ci è stato affidato e che ha salvato le anime nostre l'evangelo a questo scopo liberare dalla morte eterna coloro che sono sotto il giudizio di dio a causa del loro peccato è l'eternità il tema è il giudizio è la morte eterna quello che l'evangelo tratta infatti il verso più conosciuto non dice forse che dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna quella affinché ci mostra qual è la ragione di questo atto di grazia che il signore ha compiuto e in questo senso noi abbiamo dinanzi una grande responsabilità e qui vediamo che per quel che riguarda l'opera che dio ha affidato ad ezechiele ma di riflesso ripeto anche a noi ci sono due aspetti che riguardano la responsabilità del profeta rispetto all'opera che dio vuole compiere attraverso di lui la prima riguarda se stesso la chiamata che dio rivolge al profeta è una chiamata di altissima responsabilità e a causa di questa grande responsabilità il profeta il profeta è chiamato a agire appunto secondo il valore della chiamata che ha ricevuto il tema in ballo così come l'esempio che dio riporta della sentinella e della guerra che arriva è la vita o la morte ed è il tema più importante e per noi per noi che abbiamo a causa dell'evangelo la mente proiettata verso l'eternità questo tema della vita e della morte si moltiplica all'infinito poiché è di vita eterna o di morte eterna che l'evangelo parla quindi il primo la prima responsabilità che il profeta riceve riguarda questa grande chiamata riguarda soprattutto se stesso cioè la fedeltà l'impegno la cura con le quali lui metterà mano ad adempiere il mandato che gli è stato affidato perché perché le conseguenze sono grandi per se stesso oltre che per coloro ai quali lui è mandato infatti la responsabilità di cui lui viene investito è così grande che dio gliene chiederà conto di come ha speso i suoi giorni e vi sono sono onesto quando meditavo questo passo non ho potuto fare a meno che rivolgermi al signore dicendo signore aiutami abbi pietà di me per essere una sentinella che sappia fare bene il suo dovere perché l'opera che tu vuoi compiere attraverso di noi ha valore eterno per la vita o per la morte e quindi qui il nostro mandato è un mandato che va afferrato anzitutto con franchezza dio ci affida un messaggio perché questo messaggio sia trasmesso così come ci viene portato questo è uno degli aspetti più importanti noi dobbiamo afferrare il messaggio dobbiamo udire con chiarezza quello che il signore dice nella sua parola per poterlo trasmettere così come esso è o lo so vi sembra strano questo che vi sto dicendo ma poiché il signore ci ha dato l'evangelo noi prima di predicare l'evangelo dobbiamo conoscere bene l'evangelo dobbiamo conoscere bene il messaggio e sapere di che cosa parlare e che cosa dare quando predichiamo l'evangelo perché purtroppo oggi l'evangelo a volte è predicato privo del suo messaggio centrale si può ascoltare molte volte predicare l'evangelo e così poche volte ascoltare dell'eternità del peccato e dell'unica via di salvezza e noi abbiamo bisogno di capire che il messaggio che ci è stato affidato così come ai tempi di ezechiele è per la vita o per la morte è per la vita o per la morte questo è il valore del messaggio molte volte l'evangelo viene portato solo come forma di consolazione o a volte la nostra mente viene rapita e dai bisogni materiali delle persone vediamo una persona in difficoltà particolari diciamo ha bisogno dell'evangelo ma tutti hanno bisogno dell'evangelo perché l'evangelo non parla solo delle difficoltà di questa vita o delle dei dolori che si affrontano ma l'evangelo parla di vita o di morte e il mendicante malato nel bisogno che vive ai canti di una strada ha bisogno dell'evangelo come il ricco a cui non manca nulla di delle cose di questo mondo ma che non ha la vita eterna entrambi hanno bisogno dell'evangelo perché perché l'evangelo parla di vita eterna o di morte eterna e tutti coloro che non hanno la vita eterna hanno bisogno dell'evangelo perché coloro che hanno la vita eterna hanno già ricevuto l'evangelo perché l'evangelo è l'unica via di salvezza ma questo messaggio dell'evangelo dio lo ha affidato a noi ed è per questo che dobbiamo comprendere che il nostro ruolo è importante è importante e a volte il nostro problema più grande è riuscire a combattere questa battaglia mi sono a volte confrontato con i profeti ai quali dio affidò compiti veramente ardui come quando mandò il profeta a parlare direttamente a re acab con parole dure o quando natan andò da davide per svelare il suo peccato o quando mosè fu mandato a faraone misero in gioco la loro stessa vita per poter portare il messaggio che dio aveva dato loro perché la posta in palio era la vita o la morte e noi abbiamo lo stesso peso posto su noi e questo aspetto è un aspetto così importante che dio dice io ti chiederò conto di come hai amministrato la parola che ho messo in te ora che cosa intendo dire non voglio semplicemente considerare e questo pensiero lo rivolgo prima a me prima che a voi il valore della responsabilità ma desidero che a fianco al valore della responsabilità noi non ci sentiamo schiacciati da un peso più grande di noi ma che considerando questo alto valore noi possiamo combattere nella giusta misura nel giusto modo la battaglia che abbiamo dinanzi e la battaglia che abbiamo dinanzi prima che prendere il coraggio a quattro mani e andare a portare il messaggio dell'evangelo e imparare a stare ai piedi di colui che ci rende capaci e responsabili virtuosi franchi liberi per poter assolvere al compito che ci è stato dato io non posso mai dimenticare l'esempio che dio ci ha lasciato con l'apostolo paolo un uomo capace di affrontare tutto e tutti pur di portare il messaggio che dio gli aveva dato dove dio voleva che questo messaggio giungesse e non era importante se una folla lo aveva appena linciato e aveva cercato di ucciderlo lui chiese all'ufficiale di fermarsi sui gradini e di poter predicare a coloro che lo avevano colpito perché dio gli aveva detto va e predica e lui era pronto a mettere in gioco la sua vita a perdere la sua vita pur di portare questo messaggio ma mi rendo conto con piena consapevolezza che noi abbiamo bisogno di lottare la prima battaglia non è quella di andare la prima battaglia è quella di rimanere ai piedi il profeta per ricevere il messaggio da portare e per avere il coraggio di farlo aveva bisogno di stare ai piedi di colui che lo fortificava aveva bisogno di avere comunione con colui che è la forza con colui che ha la passione con colui che da al debole la forza e al povero la ricchezza fratelli quando ci si ci si trova dinanzi a un tale messaggio noi ci riconosciamo timorosi e insufficienti ma dio è capace di darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno e riconosciamo un altro aspetto che il nostro compito svolto con fedeltà può portare vita a chi è nella morte quando leggiamo gli atti degli apostoli noi scopriamo di uomini che vengono messi in evidenza dalla parola di dio come pietro giovanni e poi l'apostolo paolo ma anche filippo stefano di cui ci vengono raccontate in larga misura o in con brevi parole leggesta ma se noi leggiamo attentamente scopriamo che la parola di dio si diffuse per opera di tutti coloro che erano stati salvati quando la persecuzione a gerusalemme giunse ovunque il popolo fuggiasco la chiesa del signore giungeva portavano la parola del signore e questa si diffondeva ovunque e allora noi abbiamo bisogno di vedere il frutto del mandato che ci è stato affidato ha posto dio l'evangelo nel tuo cuore perché per la mia salvezza certo ma lo stesso evangelo che ti ha salvato dice andate per tutto il mondo e predicate l'evangelo chi avrà creduto sarà salvato chi non avrà creduto sarà condannato l'evangelo che ci ha salvato è anche l'evangelo che ci ha mandato e ci ha mandato affinché la parola del signore giunga laddove l'empio può ravvedersi perché dio non si compiace della morte dell'empio ma che l'empio si converta dalla sua via e viva e allora io credo che qua c'è un duplice aspetto prima cristo scuote la chiesa con la sua parola la invita a vivere ai suoi piedi a farsi carico delle responsabilità che dio gli ha affidato a ricercare quella pienezza che fu ricercata dai credenti degli atti degli apostoli prima di muoversi per poi andare e mantenere fede al mandato ora io sono onesto e voglio parlare proprio a causa di questo con franchezza con voi quanta parte delle nostre risorse ad ogni livello fisiche economiche in tempo dedichiamo al mandato che dio ci ha affidato e badate fratelli voglio continuare a essere franco non parlo di culti all'aperto di evangelizzazioni a quale noi partecipiamo molte volte seduti sui banchi o distribuendo qualche volantino per poi dimenticare per il resto dell'anno questo mandato qui si tratta di essere mandati da dio verso le persone verso un incontro a tu per tu avere la sensibilità la franchezza di cogliere l'occasione di andare di curare di cercare di avere la sensibilità per essere spinti e compiere quest'opera in casa in famiglia con il vicinato per le strade tra gli amici al lavoro e ovunque dio ci mandi ogni giorno come araldi dell'evangelo cercando l'opportunità e io credo lo credo fermamente che la prima battaglia che una persona mandata deva vivere è quella che si combatte sulle proprie ginocchia e ancora prima nella ricerca di una vita che ci metta in contatto con ciò che è eterno e soprattutto con colui che abita l'eternità sapete i credenti degli atti degli apostoli avevano ricevuto il mandato ma giustamente il signore gli aveva detto rimanete a gerusalemme finché dall'alto non scenda lo spirito di dio e infatti li troviamo timorosi chiusi su un alto solaio dovevano conquistare il mondo ma nel timore e nella paura erano chiusi in un luogo nascosto quando lo spirito di dio scese forse la paura ancora c'era la vediamo ad esempio in anania quando viene mandato da dio a saul ma viene vinta dal senso di responsabilità dalla comprensione del valore del loro mandato e soprattutto dalla passione che lo spirito di dio crea in loro considerando la responsabilità e il valore del mandato che hanno ricevuto ed eccoli ovunque nel mondo a portare il messaggio dell'evangelo affinché i perduti possano essere redenti e ricordo paolo quando parlando disse ecco io sono netto del sangue di tutti voi perché vi ho annunciato con franchezza tutto il messaggio della parola di dio riflettiamo ai piedi del signore e chiediamoci possiamo dire noi lo stesso riguardo alla responsabilità che dio ci ha affidato se così non è se ci sentiamo mancanti come io mi sento mancante dinanzi alla meditazione di un passo come questo allora la prima cosa da fare non è andare ma come negli atti degli apostoli fermarsi ai piedi del signore per ricevere da lui quella pienezza dello spirito quella pienezza di consapevolezza che ci spinge ad essere franchi così come chiesero nel capitolo 4 degli atti degli apostoli i discepoli minacciati quanto alle loro minacce pensaci tu ma quanto a noi donaci la franchezza di predicare l'evangelo a costo della loro vita questa preghiera fu fatta perché perché dio aveva posto in loro per mezzo dello spirito la piena consapevolezza del valore del loro mandato e della responsabilità che gravava su loro voglia il signore mettere in noi la stessa consapevolezza mentre stiamo ai piedi del signore per dirgli signore fai di me un araldo che abbia la tua passione il tuo amore e che possa vivere in piena obbedienza portando a compimento questo mandato senza avere pesi da portare un giorno dinanzi a te nel cielo per non aver compiuto appieno tutte le opere che tu hai preparate dinanzi a noi